I giudici stanno facendo un ottimo lavoro, questa inchiesta era assolutamente un atto dovuto e noi siamo molto contenti che si operi per questi fini per la giustizia. Detto questo, in verità il mio cliente non ha nulla a che vedere né con episodi di corruzione né con episodi di turbativa d'asta, ma questo non vuole essere un'accusa appunto né agli inquirenti né ai magistrati che sicuramente ristabiliranno la verità. In verità ci sono persone che hanno millantato, che hanno fatto credere cose che non erano, si sono presentate offrendo delle contribuzioni del tutto lecite per magari, che ne so, la festa del paese, per beneficenza, senza collegare minimamente, senza che le persone potessero collegare minimamente queste contribuzioni a episodi di corruzione, perché mai è stato fatto nome di ditta di appalti o di altro. Nel quadro accusatorio queste persone si sono dimostrate persone molto meno serie di quello che invece facevano ritenere. Bisogna ristabilire questa giustizia perché è evidente che il sindaco Giuseppe D'Angelo è una persona serissima, che non ha mai preso un centesimo, che non ha mai voluto utilizzare fondi di provenienza in dubbia e soprattutto che non ha avuto mai nessun atteggiamento né comportamento che potesse in qualche modo mistificare gare o far vincere questa o quella ditta. Questo ovviamente deve emergere, deve emergere perché quando l'inquirente intercetta, ascolta conversazioni, è chiaro che si fa un'idea, un quadro e poi nella rete finisce pure qualche pesce che invece stava nuotando per fatti suoi in maniera del tutto lecita. succede, io sono avvocato, sono esperto di queste cose e quindi so che questo capita. Sono convinto che già dall'interrogatorio lui riuscirà a chiarire la sua posizione a pieno.